Prossimo cantante 3, 2, 1, go Buongiorno ragazzi ragazzi Oggi siamo ritornati qui con il prossimo video Con il prossimo video Parodia Ebbene si raga perché questa settimana C'è stato Sanremo E ne abbiamo viste Di tutti colori E raga quindi per chi non l'ha visto Vi facciamo un Repilogo noi di questo Sanremo Per chi l'ha visto divertitemi Con noi insomma Però raga diciamo una cosa Tutti i cantanti che stasera Citiamo Non stiamo prendendo davvero in giro Perché anzi a noi piacciono tantissimo Però appunto è una parodia Giusto per farci due risate assieme E quindi niente Ok ora presenterò Un ospite speciale Zlatan Ibrahimovic Ciao slaga Buonasera a tutti Come ti sembra questo festival Che presento per l'ennesima volta io Festival mio Festival di Zlatan Come festival tuo? Festival mio tu piccolo uomo Cosa ti ho fatto? Tu zitto Ascolti mie regole tu Zitto Festival Zlatan Io Idea per parcheggio Rubano le macchine Nel parcheggio E quindi Ho trovato Qualcuno Chi è? Che Guarda le macchine Sì chi è? Quello brutto Quello dei quadri Per caso Chi? Zitto Cosa ti ho fatto io? Quello del museo Quadri Quello brutto Come quello brutto? Chi? Achille Lau Lauro Per caso Achille Lauro Ma come? Quello è un artista Ditto Festival Zlatan Andiamo a presentare una canzone? No Comando io No 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 Aspettate mi è venuta la cosa Deve dire così In pratica Festival Zlatan Parcheggio Achille Lauro Così tutti scappano Via Non era meglio che le facevi Achille Lauro Che tu Zitto Ma scusa Via Via No perché Via Ma io sto presente Il mezzetto Via Comanda Zlatan Prossimo cantante Quello brutto Prossimo cantante Achille Il museo Avanti Avanti Se la vi È la vi Quadri Na 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 Se la vi È la vi I quadri I quadri Ma sto sanguinando Ma sto sanguinando Si sta sanguinando Ma la cosa La dolore La cosa Mi Non voglio Mi Tocca I quadri I quadri I quadri I quadri I quadri Sempre i quadri I quadri I quadri Ok raga Ora vi facciamo vedere L'esibizione Di Feder E Francesca Michelin Interpretate da noi Ovviamente Le mie scuseranno Mille Mille Ma nel cuore Sento spille Spille Prova A toglierle Tu Baby Tu Baby Tu Grazie a tutti Grazie Federico Ma che cavolo Combini Ma ti sembrano Ormai Ma mi sembra Non buscato Il ponzo Ma che figura Che figura Ma mi sembra Non buscato Ma va Bene Ora presentiamo Il prossimo cantante Che deve essere presentato Dal sottoscritto Ah dal sottoscritto E non ci vedevo bene Non ci vedevo bene Scusate Non ci vedevo bene Prossimo cantante Prossimo Raga Ora farò Io la farò Di I yellow Quindi Dovevo imporcerci me Dovevo imporcerci me Dovevo imporcerci me Dovevi portarci me Dovevi portarci me Oh E come si fermano Dovevi portarci me Fermati Non ti ho voluto portare Dovevi portarci me 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 Senti Io questa volta Allora Ascoltami bene Dovevi portarci me Dovevi portarci me Dovevi portarci me Finiscila Sei troppo permaloso Non ti ho voluto portare Non ti porterò Bah Ma vattene Oh Mamma mia Sono così queste persone Ok ora vi presenterò il vincitore di questo festival di Sanremo Vieni Damiano vieni Vieni Grazie a tutti grazie Parla Dici cosa pensi di questo Parla Parla La gente No 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 Parla Parla No no Devi Scandire le parole Parlando Parla La gente Fermo Fermo Parlare Come trovi questa vincita di questo Sanremo Parla La gente Purtroppo Parla Parla Non sai di che cosa Parla Tu portami dove Sto a galla Che qui mi manca l'aria Allora Gala Che cosa Ok ok raga allora speriamo che questo video vi sia piaciuto siamo arrivati al termine e ovviamente come abbiamo detto all'inizio non abbiamo voluto offendere nessuno è solo per giocare un po' noi quest'anno ci siamo divertiti tantissimo con il festival come ogni anno e ci è piaciuto tantissimo tutte le canzoni e grandi money skin che hanno vinto e niente raga la canzone ci piace tantissimo quindi niente noi vi mandiamo un bacione per noi ma anche Achille Lauro che in questo video è stato parecchio nominato ci è piaciuto tantissimo quindi era solo un po' per scherzare e niente noi vi mandiamo un bacione enorme ma ci vediamo al prossimo video vi ricordiamo di iscrivervi all'instagram marghejulia kawaii su tiktok marghejulia kawaii sul nostro canale marghe lettera sul nostro canale marghejulia kawaii sul secondo canale marghejulia secondo canale noi vi mandiamo un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao